Con la consegna della documentazione dell'intervento tecnicamente detto collaudo salgono a 23 le facciate del corso recuperate. L'ultima facciata restaurata della città picta è la Casa Sam di Piazza San Marco. Siamo particolarmente soddisfatti e orgogliosi di aver partecipato alla realizzazione di questo progetto ventennale che restituisce al centro di Pordenone, al centro storico e alla città intera, restituisce la parte più bella della città, la parte pittorica. E quindi siamo grati all'amministrazione comunale, alla sovrintendenza e anche ai proprietari. In quest'area sorse il primo insediamento abitativo di Pordenone, visvetava la torre della porta friulana, il ponte elevatoio sulla roggia ed il palazzo che ospita lo studiolo di Giovanni Antonio De Sacchis detto il Pordenone, massimo pittore friulano del Rinascimento. Il significato dell'alto valore storico nelle parole dell'assessore comunale Martina Toffolo. È un'iniziativa importante che avrà bisogno di essere rivista, che ha dato ad oggi a Pordenone, a noi tutti, la possibilità di scoprire che delle facciate grigie invece nascondevano al di sotto un patrimonio che ha fatto sì che Pordenone possa chiamarsi a pieno titolo città picta. Senza la fondazione, senza l'ausilio dell'attento e puntuale intervento della sovrintendenza e senza, come diceva il Presidente, l'aiuto dei proprietari che hanno deciso di aderire a questo progetto, noi oggi questo patrimonio non l'avremmo. È un modo di strutturare la nostra storia, di conoscerla e di mantenerla, che fa di Pordenone una delle più belle città come estensione di centro storico porticato con delle facciate dipinte di pregevole qualità.